Quarta Kermess per amore della musica e della solidarietà, una richiesta da chi insomma in teoria fa parte ormai della squadra da quattro anni, ma qualche canzone italiana in più è possibile? Ma senti questa è una domanda che se ne occupa Giorgio, io penso che Il Punto in Bianco faccia tutte le canzoni in italiano quest'anno, quindi noi siamo a posto. Mi ci metto anche io perché voglio svelare una cosa, questa edizione che io non suonerò è la prima volta in 45 anni che mi perdo una serata perché sono stato sempre presente, però sono adeguatamente sostituito dal grande Silvano Navini. Allora abbiamo capito che ci sarà insomma un repertorio un pochino più italiano e poi insomma avete fatto questa scelta del sabato per insomma facilitare il pubblico sostanzialmente. Abbiamo fatto più che altro per il pubblico perché avendo anche amici che l'anno scorso, prima del concerto di Mala addirittura che fu un grande concerto, andavano via, mi sono domandato come mai, ritrovandoli abbiamo detto guarda si lavora presto, allora abbiamo fatto perché non farlo di sabato, è più una serata più tranquilla, la gente può stare fino alla fine del concerto. Ecco, condivideremo il palco caro Assessore insieme alla collega Barbara Perissi, sarà assolutamente un piacere, insomma vedere un'amministrazione impegnata così in prima linea per una cosa di questo tipo è veramente molto singolare e molto piacevole. Sì, quando Carlo Benucci mi ha chiamato ho risposto subito con un sì deciso anche perché l'amministrazione comunale ci crede, è giusto che anche si metta in gioco. Quest'anno chi sarà l'ospite d'onore? L'ospite d'onore quest'anno sarà Leandro Baldi, una persona eccezionale, un bravissimo cantante, noi siamo tutti intorno alla musica vera e quindi vogliamo che la gente capisca che stare insieme per le cose buone ci fa stare tutti meglio, la città cresce, la gente ritrova fiducia e speranza e l'amicizia nella musica trova la sua energia. Speriamo in un buon incasso per il Calcite, lei Vice Presidente ha ricordato che gli sponsor sosterranno i cachet in questo caso dell'ospite ma insomma non verrà detratto nessun euro dalle offerte degli aritini. Il nostro intendimento è sempre stato questo, cioè l'incasso dei cittadini viene donato al Calcite, il resto per il resto le spese che sappiamo sono quantificate trovare gli sponsor. Quest'anno praticamente è un'annata particolarmente propizia perché abbiamo nel nostro gruppo di presentatrici anche l'assessore Tiziana Nisidi e che poi abbiamo anche inoltre i cindialai con il Presidente Angelo Tavanti che forniranno nel pomeriggio e nella serata dei lucugliani pasti e quindi delle leccorne a quali sono invitati tutti i nostri concittadini a assaggiarli ormai con suetudine.